ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video come vedete ci sono due telecamere perché oggi voglio fare una prova proprio che è pazza non so manco ecco allora voglio provare il modello fisico dei danni perché non se ne parla mai io comunque molto poco allora cosa ho fatto installato intanto una telecamera qui che la vedete così vedete quanto sono pazzo per vedere come reagisce la base da red drive sim q pro da 25 newton metri agli urti e qua così vedete la mia faccia se casomai mi spezza i polsi quindi abbiamo preso una bella dtm accendiamo partiamo lo scopo è quello di fare e di fare almeno 220 230 accendiamo pure il DRS ci siamo vediamo una piccola legnatina non è che mi ha dato chissà che allora andiamo a vedere a questo punto il replay istantaneo e vediamo come si comporta la nostra macchinetta a livello di fisica ok e tac allora si è staccata una gomma e a ecco qua diciamo che ha preso una bella trampata e ovviamente mi aspetterei qualcosa di più anche se ci sono le gomme quindi poi giustivi stile con cazzo la casita e spaccare tutto va bene vediamo abbiamo fatto il giro con race room adesso tocca tocca a r factor 2 ok quindi adesso tagliamo il più possibile per lo scopo è quello di andare a sbattere ci basta a 220 e eccolo qua attenzione alzi devo dire che non ha reagito male allora vediamo allora la strisciatina qui quella che abbiamo presa la e ci potrebbe stare perché alla fine abbiamo sbattuto ma 220 allora ragazzi no 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 ogni tanto si stacca la ruota e questo lo sappiamo però diciamo a livello dei del rendere dei danni r factor 2 in questo momento è leggermente dietro al race room c'è come se ce ne fregassero dei danni però va bene così ok ragazzi allora asset forse purtroppo non posso provarlo perché ci sono problemi con le configurazioni cioè configuro il volante per tagliare ma non funziona quindi siccome non voglio perderci tempo perché non è più il mio simulatore principale allora proviamo sull'automobilista 2 dai quanto è bello graficamente però ragazzi ci basta un 200 all'ora vediamo allora attenzione attenzione allora vediamo però mi aspettavo un po di meglio allora mi manca la ruota no non mi piace cioè anzi mi aspettavo di più niente fanno tutti cagare fino adesso va bene allora proviamo a cc ambarabab cc coco ok f7 a vabbè certo una legnata a 250 all'ora quant'era qua almeno si vede un po di danni devo dire la verità è in testa sicuramente come modello fisico di danni e assetto forse competizione e bisogna dare a cesare qualche di cesare automobilista 2 fatto era fattore 2 fatto ha reso un fatto a cc fatto ha stato forse 1 non possiamo farlo cioè non posso farlo io ci resta i racing ci siamo a test bmw m4 ma sotto siamo altri ma possiamo tirare andiamo sul muro a occhio raga occhia le mani chius cioè perché mi arrivo a marzo ragazzi ma che mi ha fatto qua ma scusa scusa una ruota si è staccata e ci siamo mi sa che quindi due ruote si sono staccate il cofone è andato via e e basta dammi vedere bello il fumo ah mi ha tornato indietro perché addirittura mi ha c'è il contro a colpo mi ha scavenuto però i danni collaterali del resto eccetera eccetera con il fatto che con il contatto si viene a disperdere sullo chassi non si vede però diciamo che lo mettere in seconda posizione proprio così a livello di di danni di danni di fisica ma ma solo un po così comunque però che legnata ragazzi e ora secondo me dovremmo andare con il re il re della fisica dei danni ragazzi e few moments later bene ragazzi adesso passiamo alle cose serie ma è incredibile